Ciao a tutti, come fargli venire paura di perderti? In questo video voglio spiegarti come fargli venire paura di perderti. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base, condizioni mirate, abbonamento top, condizioni mirate, videoregistrazioni, seminar dal vivo. Come fargli venire paura di perderti? Allora, quindi veniamo al tema, come fargli venire paura di perderti? Allora, se vuoi far venire paura di perderti a un uomo, devi utilizzare delle strategie, delle tecniche, soprattutto se ti senti sottovalutata o sottovalutato, perché mutatis mutandis vale anche per gli uomini verso le donne. A volte in una relazione diventa semplice, diciamo, trarre vantaggio dal fatto che presumiamo che una donna o un uomo sia sempre disponibile. Allora, se sei stufo di essere trattata o trattato come se non fossi importante, come se fosse una ruota di scorta, devi fargli venire paura di perderli. Quali sono i modi che possono essere utilizzati, le modalità che possono essere utilizzate per fargli venire paura di perderti? Beh, intanto diciamo che la prima cosa è creare delle amicizie, creare delle amicizie virtuali con le quali iniziare a messaggiare e ovviamente magari far vedere, far percepire che comunque hai dei contatti virtuali con i quali messaggi, con i quali entri in contatto, con i quali sei relazionata o relazionato. Il modo migliore per fargli capire questo è magari lasciare, diciamo, il telefono dove vedi che arrivano, gli fai capire che arrivano dei messaggi e questa è la cosa fondamentale. Quindi questo puoi anche, volendo, crearti un falso, diciamo così, con un alto numero di telefono, mandati dei messaggi e registrarlo sotto il nome di un uomo o di una donna, se proprio non riesci a trovare un amico, in modo tale da calibrare meglio i messaggi. Quando vedrà questo, questo antagonista, in questo caso presunto, farà comunque, darà comunque i suoi effetti. Seconda cosa, renditi meno disponibile. Se sei sempre, diciamo, ad aspettare che lui ti contatti o che controlli la tua giornata o che definisca quando ti vuol vedere, tu sei sempre lì disponibile, beh, diciamo che non avrà sicuramente paura di perderti e soprattutto non si sentirà coinvolto con te. Questo purtroppo è un dato di fatto. Noi siamo fatti così, temiamo e desideriamo le persone che sono meno disponibili. Diventa inafferrabile, diventa un po', come dire, volubile. Cerca di sparire, diciamo, cerca di mimetizzarti e comunque non dargli tutta questa disponibilità. Questo devo dire che è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. La prossima volta fagli indovinare, fagli pensare dove sarà, con chi sarà, cosa farà. Questo è interessante. Altro punto, parla molto di un collega o di una collega come una persona interessante. Parlane, perché, come dire, questa è un'altra cosa molto interessante che tu puoi fare. Un collega, una persona che frequenta la palestra, insomma, cerca di parlare spesso di quella persona senza dire ovviamente nulla. Però, come dire, gli stai mettendo la pulce nell'orecchio che qualcosa sta funzionando. Questo è un qualcosa di molto importante ed è molto interessante questo. Insomma, se vuoi farlo, diciamo così, ingelosire, è un altro metodo. Ma devi buttare lì delle cose en passant, senza, diciamo, insistere troppo. Altra cosa, smettila di fare le cose che piacciono tanto a questa persona, a lui o a lei. Se tu continui a fare sempre tutte le cose che gli piacciono, non sarai distonica, non creerai distonie, non creerai, diciamo, una situazione in cui penserà che tu gli possa piacere. Questo è un altro punto da tenere presente, un altro punto fondamentale. Altra cosa fondamentale, smetti di rispondere istantaneamente o rapidamente ai suoi messaggi. Uno dei motivi per cui una persona pensa che tu sei coinvolto è se rispondi istantaneamente ai suoi messaggi. Cerca di lasciare passare del tempo, cerca di far, diciamo, come dire, farli intendere che non sei così reattiva o reattivo nelle risposte ai messaggi. Un'altra cosa molto utile è questa. Poi, sessualmente cambia un po' di cose, fai qualcosa, qualche novità e poi ogni tanto togli. Ecco, questo è un altro punto molto importante. Perché, diciamo, se agganci lì e poi togli, diventerà tutto più facile. Ovviamente, tieniti il telefono nascosto, portatelo sempre dietro. Poi ogni tanto, quando devi fargli vedere i messaggi, magari fai finta di lasciarlo. Ma se no, fai vedere che tieni, custodisci in modo geloso il telefono. Ecco, questo gli farà dire, ma come mai? Se prima magari non lo facevi, lo ammalavi lì, adesso inizia a tenerlo. Il dubbio che forse ci sia qualche cos'altro inizierà a girare nella sua testa. Migliora te stessa o te stesso, diciamo che inizia a prenderti cura di te, attraverso palestre, diete, un look più femminile, se sei donna, più sensuale, o eventualmente se sei uomo, più maschile. Insomma, comunque, inizia a prenderti cura di te. Cerca di imparare a flertare. A flertare con, diciamo, persone che non conosci e quindi devi fare questo, insomma. Devi imparare a flertare, a giocare ed è molto importante questo. E questa è un'altra cosa importante. Poi, altri giochini che puoi fare, magari inviati, se sei donna, inviati dei fiori. Quindi, magari, in modo tale che quando lui, se non so, se vede, insomma, in modo tale che percepisca che c'è qualcuno che ti manda dei fiori. Ogni tanto, fine settimana, se lui non è tanto disponibile, sparisci. Spegni il telefono, non farti trovare. Come dire, e poi dirgli, rambeteli qualche scusa. Però, intanto, questa sparizione del weekend gli sarà un qualcosa di interessante. E poi, ogni tanto, diciamo così, crea, diciamo, cerca di avere un atteggiamento non preoccupato di quello che fa lui. Cioè, fotti teni di quello che fa. In modo tale che lui non ti percepisca indifferenza nei tuoi confronti. E non cercare le sue attenzioni, anzi, cerca di snobbarlo un pochettino. Ecco, tutte queste strategie gli faranno venire la paura di perderti. E questo è molto importante. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo tra diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live, potete partecipare alle live. Abbonamento base con le lezioni mirate, abbonamento top con le lezioni mirate, video registrazioni, seminar del video. Ciao a tutti.